Siamo a Palermo, benvenuti al Foguafototour, prima tappa del nostro tour fotografico. Siamo qui in questa bellissima location dove sarà possibile scoprire tutte le novità fotografiche dei brand da noi distribuiti e importati in Italia. Sarà possibile quindi toccare con mano tutte le novità del mercato fotografico, sarà possibile scattare in una fornitissima sala pose, sarà possibile scoprire in anteprima assoluta dato che è stato appena presentato il progetto Print House, quindi la stampa in service presso un network di negozianti distribuiti su tutto il territorio nazionale. Sarà anche possibile ritirare, ottimo motivo per cui venire, ritirare il coupon sconto 10% su tutti i nostri prodotti. Inoltre con una partnership con LTR, il Laboratorio Tecnico di Riparazioni, sempre a Torino, offriamo un check-up gratuito del proprio apparecchio fotografico.